Sì, vanno sputati a me e io sputati a loro. Io amo la mia squadra, anche quando perdi, non l'hanno solo grande luce. Sevi fermi, se? E te mangi il feo e non vuoi te da Nanna. Signore, domani si fa un cazzo. Domani, anzi oggi si fa il podcast. Ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast di Nanna News. Io sono Lorenzo Donzelli e qui con me Edoardo Frusta. Ciao Dado. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Dado o Dodo? Dodo, Dodo, Dodo. Va bene anche Dado, tutte e due va bene. Va bene, va bene. Allora, ecco, in base a come me la sento. Comunque, è un po' che non ci sentivamo, ne sono successe, ne sono successe, infatti nella puntata di oggi parleremo un po' della situazione attuale, delle partite, ma soprattutto le notizie del momento sono più sulla questione societaria. una questione societaria che non è delle migliori, tante contestazioni, sicuramente Edoardo ce ne parlerà meglio. Poi stiamo registrando nella giornata di giovedì 19 settembre, quindi domani si giocherà la partita contro il Pesaro. Pesaro squadra, comunque interessante, analizzeremo anche quello. Però partirei subito dalla notizia, chiamiamola del giorno, ma comunque di queste giornate qui, ovvero della possibile vendita che è in atto. Dado, cosa ci sai dire? Sì, allora, guarda, io diciamo racconto un po' quello che ho letto ultimamente sui vari siti riguardanti la Ternana. Sicuramente eravamo tutti a conoscenza del fatto che Guida stessero cercando potenziali acquirenti. Sicuramente non ci aspettavamo che non si riuscissero a pagare le ritenute IRPEF e i contributi IMSS dei mesi di maggio e giugno. O perlomeno che non si pensava che non si riuscisse a pagare talmente, dato che la Ternana stessa ha comunicato che sono stati parzialmente pagati. Non si sa come si è giunti a questo punto, anche perché la rosa messa a disposizione al mister è sicuramente una rosa più che valida e sicuramente tra le più attrezzate di tutto il girone. Non si sa quindi come si è giunti a questa situazione. Sicuramente siamo rimasti tutti spiazzati e non sappiamo veramente cosa ci aspetta. Sicuramente, scusate la ripetizione, ci sarà una penalizzazione di un punto o due punti o questo ancora non si sa. Speriamo, ecco, sia di un punto però questo ancora non c'è dato sapere. Dispiace, dispiace perché con l'ultima partita contro il Pinto si era vista una Ternana, diciamo che è cresciuta sotto molti punti di vista, sia dal punto di vista fisico che tattico. Quindi diciamo c'era molto ottimismo intorno alla squadra. Questa situazione ha riportato un po' di scompiglio e non fa bene all'ambiente, dato che domani ci aspetta una partita veramente, veramente difficile. Oltretutto c'è stata anche una contestazione generale alla partita di Foseria per il possibile acquirente che poteva essere questo Benedetto Mancini che in passata però ha dato acquistare anche altre squadre come Catania e Latina senza riuscirci. Questo, diciamo, è stato un personaggio un po' controverso, dato che appunto le acquisizioni di queste società non sono mai andate a buon fine e non si capisce neanche il motivo e è così è stato anche per la Ternana. Non è, diciamo, non è un caso. Poi ecco io non lo conosco, non so quali sono i dettagli, però ecco diciamo che c'erano delle avvisaglie, quindi ecco il fatto che la trattativa non sia andata a buon fine non è sicuramente una sorpresa. Quindi ecco, tra la mancata acquisizione da parte di Benedetto Mancini, tra la sicura penalizzazione che ha nato a scontare, diciamo che l'ambiente non è tranquillissimo giustamente e sicuramente ecco in questo momento le situazioni extracampo sono quelle che ci interessano maggiormente. Infatti Dodo secondo me le contestazioni hanno tutte sulla base questa paura che è un po' uno spettro, no? Diciamo di chi gestirà la Ternana se sarà in grado e se soprattutto ne avrà le possibilità. È un po' questa secondo me la grande paura che c'è dietro. Ma secondo me guarda sicuramente devo dire che la piazza ha sopportato anche troppo, anche perché durante il corso tutta la passata stagione non c'è mai stata una contestazione da parte della tifoseria, la squadra è stata sempre supportata a prescindere dai risultati fino al giorno della retrocessione. Anche all'inizio diciamo di questa stagione c'è sempre stato pelato ottimismo e fino ad oggi diciamo la tifoseria comunque non era mai non aveva mai mostrato il proprio disappunto e quindi credo che sia lecito una volta giunti a questo punto che la tifoseria e il tifo organizzato si faccia sentire perché non è possibile arrivare a una situazione del genere diciamo io direi drammatica perché se non si riesce a sostenere i pagamenti del prossimo mese si giunge all'esclusione al campionato, cioè un'ipotesi che diciamo era immaginabile fino a qualche mese fa. Non sei questo nostro centro a cui mi riferivo, no? No, per quanto poi non metto in dubbio quanto sia legittimo tutto quello che sta facendo la piazza nei confronti insomma della società. Ma scusa? No, 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 figurati. Quindi diciamo sicuramente forse diciamo quello che chiede maggiormente la piazza è chiarezza perché magari non si sa quali chi possa essere il potenziale acquirente, quali trattative sono in atto, per quale motivo si è giunti a questa situazione drammatica. non c'è mai stata molta chiarezza nell'ultimo periodo e credo che dopo tutto il sostegno ricevuto dalla società nell'ultimo anno, nonostante una retrocessione rocambolesca, è così al minimo. quindi non lo so, c'è veramente tanta confusione e non si capisce quali possa essere il destino della nostra squadra del cuore. Anche perché diciamo il rimpianto più grande è il fatto che questa squadra sia veramente secondo me una squadra attrezzata che ha tutte le carte regola per il salto di categoria. dispiace perché la dirigenza come il DG Foresti, il DSM Marella hanno veramente fatto un gran lavoro durante l'estate abbassando il monte in gaggi che era veramente veramente spropositato per la categoria e acquistando giocatori che secondo me sono veramente veramente validi. Vedi Cianci, Purcio, lo stesso Donnarumma che è rimasto in rosa. Ma questi sono giocatori che non tutte le squadre di Serie C, di tutti i gironi, possono permettersi. Dispiace, ecco, soprattutto per questo. Sì, anche perché io penso che comunque che la società non potesse mettere a disposizione troppi fondi quindi era una situazione che avremmo avuto sia se fossimo rimasti in Serie B che in Serie C. Io da quanto avevo capito anche se fossimo rimasti in Serie B comunque avremmo cercato di far mercato con il tesoretto che ti dava la salvezza, quindi un po' autofinanziandoti così con i diritti televisivi e con i soldi della salvezza. Purtroppo in Serie C c'è meno mercato, quindi era ancora più difficile la situazione e quindi sono stati forse ancora più bravi a cercare di gestire quanto possibile la situazione. Poi Edo, appunto, dimmi se sbaglio poi. No, no, certo. Io sicuramente non mi aspettavo una rosa così competitiva. Cioè, la rosa messa a disposizione di Abate è sicuramente una rosa oltre alle aspettative. Cioè, veramente, come ho detto prima, hanno acquistato certi tipi di giocatori che in Serie C fanno veramente la differenza. Poi c'è anche lo stesso Abate che è un allenatore che ha dimostrato di saper fare molto bene in Youth League con il Milan. Anche, per esempio, in queste tre partite ho visto un Abate che, diciamo, in un periodo comunque così breve ha capito meglio come funziona la categoria, come, diciamo, funziona. Cioè, che magari è una categoria in cui si gioca, diciamo, il vero calcio, il calcio sporco in cui non è necessario, diciamo, la costruzione dal basso, diciamo, nei momenti, ecco, in cui diciamo, dopo la partita non serve. Che poi magari, ecco, può rimanere la filosofia di gioco dell'allenatore, però magari in certe situazioni occorre anche spazzare la palla. E vedo comunque alcun Abate che già in queste prime partite sta capendo meglio come va la Serie C. Poi sicuramente i giocatori stanno entrando più in condizione, migliora la condizione atletica e questo si è visto soprattutto contro il Pinedo. Poi magari, sicuramente, diciamo, è anche, non sai mai dove arrivano i tuoi meriti e dove arrivano i tuoi meriti dell'avversario. Però il Pinedo era una squadra che non aveva mai perso, che aveva subito solamente un gol. È una squadra solita che è una squadra solita tipica della Serie C. E quindi, ecco, i presupposti per un buono, anzi ottimo campionato c'erano. Questa situazione, diciamo, ti fa un po' ripiombare nel baladro ed ecco, sicuramente non aiuta. È una piccola scossa, diciamo, sì. Speriamo di, appunto, di uscirne bene. Io su Abate ho questo piccolo aneddoto. Io ero stato molto contento di quando abbiamo preso Abate anche per questa piccola esperienza personale, ovvero che io l'avevo incontrato in vacanza e mi ricordo che ai figli non gliene faceva passare una. Alla minima cosa erano, cioè, insomma, li sgridava. Quindi anche questo, ho questo rotto del carattere di Abate. Lo vedo molto impostato. Secondo me, soprattutto in questa situazione difficile, deve essere bravo, forse impeccabile, riuscire a, diciamo, a mantenere tutti sul pezzo e a non, diciamo, farsi distrarre troppo dalle situazioni extracampo. Quindi, ecco, in questo momento soprattutto deve essere bravo o deve essere bravo in questo. E poi magari a colui abituato con il Milan erano situazioni troppo comuni per lui, sicuramente non saranno. e quindi, ecco, diciamo che forse, ecco, gli verrà qualche capello bianco in più. Poi, parlando di campo, sia Pesaro che Ternana sono a caccia del loro quarto risultato utile consecutivo. Pesaro, appunto, che ha due punti in più di noi perché anche loro hanno perso la prima gara ma hanno poi vinto le tre successive. La sfida nella sfida può essere, appunto, Cianci contro Di Paola. Di Paola che nelle ultime due gare è entrato in partita in corso e ha segnato. Quindi dobbiamo stare attenti, insomma, anche agli innesti che può dare il Pesaro che comunque dimostra di essere anche una squadra lunga se i suoi innesti possono fare la differenza in questo modo. Che hai da dire sulla prossima avversaria della Ternana, Edo? Ma, guarda, sicuramente i nove punti nelle prime quattro partite dicono molto. È una squadra tosta, veramente tosta, che sicuramente si giocherà le prime posizioni o perlomeno la parte alta della classifica fino alla fine del campionato. È una partita veramente, veramente difficile. Cioè, forse io in questo momento, dalla situazione societaria e tutto, non so se firmerei per il pareggio, ma siamo lì. Spero solamente che, ecco, i ragazzi siano riusciti durante la settimana a lavorare bene, a concentrarsi sulla partita. Non metto in dubbio il fatto che la Ternana abbia sicuramente un organico più forte. Questo è inutile che ci nascondiamo. Credo che la Ternana abbia l'organico più forte di tutto il girone. e quindi, niente, spero semplicemente che i ragazzi siano concentrati e... Con la testa libera. Con la testa libera, soprattutto. Poi, ecco, visto come sono andate le ultime partite, confido anche in un miglioramento della condizione fisica, etica. Cianci, devo dire che il mister, lo ha gestito veramente bene, facendolo entrare a gara in corso nelle due partite prima del Pineto. Contro il Pineto ha fatto una partita fantastica, fa salire la squadra, è un bomber d'aria. Veramente, veramente un bel giocatore che ci serviva tantissimo. E spero che con il tempo riesca a entrare in condizioni anche Curcio, che anche lui è un calciatore che secondo me inserisci può fare la differenza. Non secondo me, diciamo, lo dicono le statistiche e i numeri. E quindi, dai, sono fiducioso per la squadra, per quanto riguarda il campo, per le questioni extracampo vedremo. Speriamo che i ragazzi riescano a tenere la testa sgombra. Va bene, tanto la prossima puntata uscirà tra poco, ci risentiamo subito dopo la partita col Pesaro, quindi direi che per oggi possiamo anche concludere qua. Io ti ringrazio per la disponibilità, noi eccoci, siamo tornati, operativi. Grazie a voi, questa insomma era una puntata per un recap generale, dato che non ci sentivamo da un po'. Esatto, esatto. Quindi dai, ci sentiamo per il post Pesaro. Ti ringrazio, ti ringrazio tutti voi. Grazie a tutti, speriamo che ci rivediamo con buone notizie, ecco, soprattutto dal punto di vista societario. Dai, forza fere. Ciao, ciao a tutti. Forza fere, sempre. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.